Siamo bambini che cerchiamo il cioccolato Questo qua è la cioccolata, la lotta cioccolata La musica di immobiliere Grazie Come andiamo a play a track su come Mi la mia amore Vai Tony, vai Come andiamo a play 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 Change your tone Oh yeah Oh yeah It's the man in the band So the scale Is a little bit shorter Than the Gibson By a native an inch But it gives me this roundness Yeah In between like Yeah We sell thousands and thousands of guitar here In Italy The distributor is in Milano Ok In Germany In Germany In Germany In Germany Sto cercando di dirti che Gianpaolo questo batterista Ha un modo di suonare un po' Unorthodox Come si possa dire E' un brano, un stile Non ho mai visto Guardiamo un po' Guardiamo un po' E' un strano bitto Sto cercando di capire Quelle che cazzo sta facendo Se qualcuno riesce E' un po' 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 Aspettavolo soli e pensieri lontani, aspettavano i giorni, aspettavano domani e avemmo ancora una canzone di cantare. Ancora una storia di cantare, ma non sappiamo unire e non sappiamo che fare, non avemmo più vale e potete ancora volare. Li volessi incontrare ognuno sotto un'opportuni, li volessi parlare o cantare una canzone e potessi partire senza tornare a reri o potessi arrivare fino ai tuoi pensieri. Ma avemmo tutti la canzone di cantare, come vediamo ancora persone sopra il mare. E mi sussiamo ancora, che non ne pare vero. Danciamo con dente, poi, che si ritorna con lo scuro. Sì, sì, sì. Amore da core, amore che non senti, amore che ascolti, che non decidenti. I think you're a gentleman Gian Paolo I think the people that I chose to hang out with Are all incredible human beings They're charming, they're talented They're considerate, they're compassionate And I think we had a good time You haven't done that yet? You haven't done mic guitar yet? Not in the monitor Ok, yeah, so we'll play along with them Can I get a little bit of mic guitar? Yes 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.